il centro-sinistra in questi anni ha sicuramente avuto uno sguardo assai benevolo verso la sanità convenzionata e religiosa ecco oltre ai nuovi ospedali per la sanità pubblica della quale retoricamente si parla sempre ecco lei che cosa propone di concreto e tangibile assolutamente premesso ripeto che sono 15 anni che non si investe come si dovrebbe nel sistema sanitario anche l'ultima manovra finanziaria non contiene un euro in più per lo sviluppo del sistema sanitario noi abbiamo previsto la progettazione e il finanziamento di sei nuovi ospedali nelle diverse province dal nord al sud compresa anche l'area metropolitana di Roma con il nuovo ospedale della Tiburtina abbiamo una grande idea che io ho chiesto anche agli altri candidati di condividerla perché a mio avviso è una cosa straordinaria per la città di Roma quella di creare una cittadella della salute riutilizzando il Forlanini come sede del Bambin Gesù e creando in quel quadrilatero tra Bambin Gesù, Spallanzani e San Camillo la più grande cittadella europea della salute e mi auguro che questa proposta possa essere accolta finora non lo è stato ma possa essere accolta anche con gli altri candidati tornando alla sua domanda la sfida è sulla sanità territoriale oggi questo è quello che ci ha insegnato il Covid esattamente, per cui bisogna utilizzare al meglio i fondi del PNR portare al massimo una digitalizzazione nei percorsi sanitari e soprattutto anche una forte spinta sulla domiciliare rivolta a una popolazione che sta invecchiando sempre di più grazie